Fuoco e vento provengono dal cielo, dagli dèi del cielo. Ma è Crom il tuo dio, Crom che vive nella terra. Un tempo i giganti vivevano nella terra, Conan, e nell'oscurità del caos mistificarono Crom e gli sottrassero il mistero dell'acciaio. Crom si aderò e la terra tremò. E fuoco e vento abbatterono quei giganti e scagliarono i loro corpi nelle acque. Ma nel loro furore, gli dèi si dimenticarono del segreto dell'acciaio e lo lasciarono sul campo di battaglia. E noi che lo trovammo, non siamo che uomini, né dèi, né giganti, solo uomini. E il segreto dell'acciaio ha sempre portato con sé un mistero. Devi impararne il valore, Conan. Devi impararne la disciplina. Perché di nessuno, di nessuno al mondo ti puoi fidare. Né uomini, né donne, né bestie. Di questo solo ti puoi fidare. Buonasera malgiocanti miei, sono proprio io. Sono filosofia, il vostro sensei altamente scarso. Ebbene sì, siamo tornati qui in Magic Malgiocato ed è il momento di tirare le somme di questo anno. Sì, è passato un anno, ragazzi. Un altro anno di Magic Malgiocato. Siamo a 2. Il 5 settembre 2019 usciva il primo video su YouTube di Magic Malgiocato. Il mio primo video ed era una roba orrenda. Registrato a muzzo con un microfono peggiore di questo. Però era il primo esperimento. Mi buttavo su YouTube con un video basato su Magic Arena che era un gioco che avevo scoperto qualche mese prima e mi ci ero subito infoniato perché io ho iniziato su Arena che era il novembre 2018 mi pare perché i miei fratelli avevano comprato delle bustine di Guild of Rannica che era appena uscito. Eravamo appassionati di Rannica avevamo dei miei ricordi di Rannica e quindi per una questione nostalgica avevamo comprato delle bustine e all'interno della bustina c'era la pubblicità di Magic Arena che era tutto quello che avevo sempre sognato ovvero poter giocare Magic in qualsiasi momento ovunque e con comodità perché alla fine il grosso vantaggio di Magic Arena è proprio il fatto di essere che ti mette a proprio agio e ti leva tutte le cose problematiche del Magic Cartaceo ovvero il dover avere quintali di carte quando fai un mazzo costruisci un mazzo dover cercare le carte in arena ci metti un secondo a cercarle le inserisci le fai se non ce l'hai le crafti è tutto molto veloce ovviamente non possiedi queste carte quello è il grossissimo svantaggio in teoria c'è anche MTGO che ti permette di fare questo ma MTGO non è un videogioco in sostanza è un simulatore e come molti lo prendono in giro dicono che è un simulatore di Excel si è proprio non è proprio ha un'interfaccia bella e neanche una grafica immersiva Arena con tutti i suoi difetti perché ne ha tantissimi e come ben sapete io sono il primo a puntualizzarli tutti da questo punto di vista qui è tutto un altro pianeta ed è quello che ha rivitalizzato Magic per me ma per moltissima altra gente e principalmente penso che il mio pubblico sia questo o gente che ha scoperto Magic recentemente soprattutto la versione digitale oppure gente che in gioventù ha giocato al gioco ma poi per una questione di ovviamente maturando crescendo e dovendo vivere una vita lavorare mettere a parte i soldi avere il mutuo la macchina non è che ti puoi permettere le spese che faresti magari da giovane ai soldi non gli puoi più dare investire in delle carte e molti mi contraddire contraddirebbero scusate l'incespicatura dicendo che con Magic ci puoi investire poi ci sono un sacco di carte che dal valore alto se tu le compri un pezzo basso ovviamente puoi passare nel tempo questo sale e aumenti di valore poi le rivendi e fai guadagno sì probabilmente è anche vero questo però quanti conoscete che hanno fatto soldi in questo modo la maggior parte dei di coloro che compra le carte di Magic non le compro per rivendere di sicuro e poi sì comunque c'è un florido mercato ma alla fine galleggi sempre in quei soldi lì non è che fai questo guadagno esponenziale da dire vivo di quello questa è la mia opinione poi ovviamente sarete pieni esempi che mi contraddicono e ci sta però abbiamo fatto questa digressione per dire che da un certo punto di vista devo ringraziare Magic Arena perché è stata una presenza costante e fissa negli ultimi tre anni e in questo canale è nato per questo motivo e sono due anni di Magic mal giocato ed è un traguardo veramente importante che non avrei mai pensato di raggiungere pensavo sinceramente che avrei smesso tantissimo tempo fa ma voi che siete questo video è per ringraziarvi siete il motivo principale per cui il canale continua esistere ebbene sì sono i numeri snoccioliamo i numeri perché i numeri aiutano a capire sostanzialmente i risultati che abbiamo ottenuto insieme no? siamo 1350 e fischia forse anche qualcuno in più e che l'anno scorso nello stesso momento avevamo 500 quindi c'è stato un boom abbiamo superato il traguardo che mi aspettavo di raggiungere che era quello dei 1000 cioè che speravo di raggiungere quello è il massimo che pensavo avrei raggiunto ed è per me è veramente una cosa impressionante ho pubblicato la bellezza di 300 e più video 300 video sono veramente una quantità astronomica non mi rendo neanche conto di aver fatto tutti questi video e 250 mazzi su eterab liste di mazzi fatti su eterab è una roba veramente che mi fa tremare le gambe ragazzi ci ho messo tanto sudore impegno su questo canale e voi l'avete apprezzato questo mi fa piacere tra l'altro abbiamo in totale sono circa 200.000 visualizzazioni ricevute che sono qualcosa di certo ovviamente nel mondo di youtube c'è gente che fa 200 visualizzazioni con un video io le ho fatti con 300 e messa così sembra come posso dirlo un po' sminuente non esaltante in realtà 200.000 visualizzazioni sono un numero astronomico su youtube è veramente difficile fare questi numeri partendo da zero e non avendo magari la personalità che va di moda adesso non essendo un canale per ragazzi essendo un boomer come me un brontolone insoddisfatto perennemente insoddisfatto nerdone magari da un certo punto di vista anche antipatico perché posso stare antipatico alle persone non sono proprio il prototipo dello youtuber o dello streamer che può aver successo anche perché io non sono sempre positivo questo è probabilmente non so se possiamo definirlo un difetto magari è lo è dal punto di vista se si vuole crescere in maniera importante su youtube io e su i suoi siti di streaming io non è che se è una cosa non mi piace dico fingo che mi piace per fare più spettacolo più audience più contenuto io sono sincero da quel punto di vista lì se è una cosa mi diverte lo vedrete magari magari non avrò reazioni ultra euforiche esagerate ma comunque lo vedrete se una cosa non mi piace lo si vedrà da quel punto di vista lì non c'è trucco non c'è inganno voi sapete che io sono sincero da quel punto di vista lì e soprattutto sono sincero nei confronti di wizard colei che crea magic che fa le carte che ci dà di cui divertirci no? ci dà sempre carte nuove continuamente carte ultimamente sempre di più forse il buon detto popolare antico il troppo stroppia non è non è così lontano dalla realtà o no forse se si esagera un po' troppo si rischia poi di rovinare il giochino comunque dicevamo io a wizard non risparmio colpi perché sono un cliente questo è un concetto che mi piace sempre ribadire perché la realtà non sono un dipendente di wizard wizard non mi paga wizard non mi ha mai dato nessun tipo di accesso anticipato non mi ha dato buste non mi ha mandato regali anche perché hanno messo una croce sul mio nome e hanno detto a questo qui non gli daremo mai niente perché ma sono stato il primo a degli che da loro non volevo niente e quindi c'è questo rapporto di amore e odio perché io amo magic il gioco ma ammetto che un pochettino odio la wizard come azienda soprattutto ultimamente non mi ci ritrovo più e non mi piace la gente che ci lavora lì però ovviamente il gioco mi piace e mi piacciono le ambientazioni tutti se avete avrete notato che nell'ultimo video in cui commentiamo l'annuncio dei nuovi set standard non ero non ero molto soddisfatto e non lo sono ancora però sto dando comunque una possibilità di ricredermi Innistrad la spoiler season è cominciata da poco è già uscito un video in quale mostro e parlo delle nuove carte alcune sono interessanti Innistrad mi piace ovviamente come piano e quindi spero che questo possa aiutarmi a rimanere ancorato a questo gioco in cui ho investito un sacco di soldi e di tempo ebbene sì come dicevo sono un cliente quindi soldi ne ho investiti di miei personali e sono anche parecchi praticamente 50 euro minimo di preordine ogni espansione quali sono entrati più eventuali altri soldi per i draft per i moderno scusate storico horizon buttati lì Kaladesh non c'era nessun preordine per Kaladesh per Amonkett e dispendioso Magic Arena ovviamente non è dispendioso come il cartaceo non c'è proprio paragone ma è dispendioso e inoltre non è così free to play come molti vorrebbero far credere sì puoi giocarlo gratuitamente però devi grindare e devi avere il tempo per farlo se tu lavori non hai questo tempo per farlo quindi purtroppo bisogna mettere in conto che è un gioco dispendioso però è un gioco divertente quando tutto funziona come si deve quando non ci sono dei cancri perché negli ultimi anni è praticamente stato infestato sia storico che standard con dei cancri allucinogeni ultimo in in ordine temporale e tibaltrickery con cascata e la carta nuova di jumpstart in predalcaos con cascata e retrace che sta praticamente plagando historic infettandolo non è un mazzo che vince sempre ovviamente però è un mazzo opprimente nel senso che è anti magic non è divertente da giocare non è divertente da giocarci contro e quindi rovina l'esperienza a tutti però ti permette di giocare un bel po' di partite velocemente senza molto impegno e quindi come un lancio della moneta alla fine vincerai 50% delle volte se fai le 30 partite al giorno con quel mazzo dovrai fatto le tue 15 win giornaliere e quindi boh ovviamente giocando un altro tipo di mazzo la partita tu era un po' di più dovrai ragionare dovrai pensare richiede più cervello e quindi più fatica un mazzo piccolo sostanzialmente lanci una moneta vedi come va passi alla prossima partita fai una trentina di volte non ho letto due hai fatto le tue vittorie giornaliere anche pochino sì e viene usato per questo motivo qui e per qualcuno magari divertente però sinceramente non penso che sia così divertente magic diciamo che preferisco quando ti ci devi impegnare un po' di più quando devi lavorare sulle sinergie strategie e non mettere un ammasso di carte buone e citarle in gioco in qualche modo ecco diciamo che secondo me il design dovrebbe andare in quella direzione e non sulla casualità sul randomico alla Airstone come le ultime carte che sono state inserite in Jumpstart in Jumpstart sono state inserite delle carte esclusivamente digitali che hanno delle meccaniche che non sono replicabile in cartaceo e fra queste ci sono le carte che casualmente ti pescano una carta dal mazzo che rispetta i requisiti ad esempio c'è il planeswalker fraialisa che ti pesca ti cerca elfi con la meno uno e quindi ti pesca un elfo dal mazzo è come se ti è meglio di pescare una carta in cartaceo non potresti farlo perché dovresti vedere cosa vai a prendere invece lì ci pensa al computer ecco però ti può andare bene pescare un lenowar oppure ti può cioè male e peschi un elfo di lenowar e ti va bene peschi un lord quindi aggiungi una componente randomica che rende il gioco peggiore al gioco secondo me e lo rende simile a altri card game che non mi piacciono perché se mi piacessero ci giocarei no? non capisco perché magic vuole diventare come Airston c'è già Airston se mi piacesse Airston giocherei a quello chiaramente idem per Luneterra se mi piacesse Luneterra giocherei a Luneterra invece sono qui a giocare a magic perché è il gioco più bello del mondo è il gioco più complesso del mondo ti permette di esprimerti di giocare praticamente un'infinità di strategie e quindi a volte è demoralizzante vedere la predominanza di certi mazzi fatti dallo streamer di turno ultra tarati ultra perfetti poi ovviamente lì ci entriamo nel discorso della problematica di non sapere come funziona l'algoritmo di arena che chiaramente non sembra una roba casuale ma sembra in qualche modo determinato dall'algoritmo che forza la percentuale di win rate ci forza tutti sul 50% poi ovviamente se si giocano i mazzi più competitivi questa percentuale aumenta logicamente però forza in quello e cosa stavo dicendo sì che trovi sempre i stessi mazzi tarati a lucido competitivi che ammazzano tutto il resto e questa è una cosa che secondo me bisogna combattere il più possibile e il design lo sviluppo si deve concentrare su quello secondo me applaudo al fatto che wizard ha deciso di limitare gli investimenti per quanto riguarda il competitivo mi dispiace per i ragazzi che vogliono puntare al competitivo ma francamente non mi interessa anzi il competitivo secondo me ha danneggiato il gioco negli anni mettendo una mentalità sbagliata nelle persone cioè le carte vengono valutate solo a livello competitivo quando invece è pieno di mazzi divertenti a giocare che magari non vincono sempre ma sono divertenti e secondo me è un gioco la cosa più importante da valutare è il divertimento poi voi mi risponderete ah io mi diverto vincendo vabbè ma da tutti ci piace vincere ma molto spesso vinci e non ti diverti perché non hai avuto modo di giocare e è un po' come dire è bello vincere col catenaccio per fare una metafora calcistica sì vincere è importante si vincono le coppe è bello è tutto però è meglio vincere col bel gioco un po' come ha fatto l'Italia nell'ultimo europeo non abbiamo giocato nel classico catenaccio difendere con due piedi ma invece abbiamo mostrato del bel gioco ed è stato ancora più soddisfacente vincere no perché il bel gioco è divertimento è bello da vedere è appagante per lo spirito per l'anima e spesso secondo me sempre per rimanere nella metafora della calcistica anche se si perde se si è visto il bel gioco e se si è giocato bene comunque si è soddisfatti almeno dal mio punto di vista questo è il mio punto di vista e e se mi seguite penso che sia anche il vostro che possiate concordare in qualche modo un punto di vista il mio punto di vista che cerco di mostrare all'utenza italiana il mio pubblico di riferimento sono giocatori che tornano o nuovi giocatori e io spero che il messaggio di cercare il divertimento all sopra alla competizione e al giocare il mazzo tarato a lucido senza anima sia passi passi e e non è facile perché in Italia c'è una mentalità derivante dai negozi della competitività dei tornei ma io quella sinceramente la voglio tralasciare voglio portare avanti una mentalità più la possiamo definire americana internazionale come si vede da altri content creator in lingua inglese che portano i mezzi i mazzi jank la giancheria i mazzi per divertirsi e io voglio perseguire quella e spero che si diffonda sempre di più in Italia perché innanzitutto è quella che fa fare soldi a magic perché chi le compra queste carte strambe se non i jankeristi e sono quelli che fa muovere l'economia e comprano sempre nuove carte perché il jankerista è sempre alla ricerca di nuove carte con cui sperimentare e poi perché si il divertimento è la parola chiave secondo me e spero anche secondo voi bene parlo sempre tanto ragazzi scusatemi ascoltatemi me lo merito dopo questi due anni di faticosi ma molto soddisfacenti dicevamo che abbiamo superato ogni aspettativa e l'obiettivo era i 1000 iscritti siamo arrivati a 1350 il prossimo infatti già è diventato 2000 abbiamo fatto una marea di visualizzazioni dei video hanno avuto dei numeri assurdi tanta gente nuova poi ho fatto un sacco di collaborazioni questo è un altro tema di cui volevo parlare collaborazioni con tanti content creator italiani che mi hanno migliorato parecchio innanzitutto vorrei ringraziare al cesare con lui ho vissuto una bellissima avventura magic show è stato un format molto divertente da fare in cui abbiamo sperimentato tantissimo abbiamo fatto dei video profondi video molto interessanti vi consiglio di andarvi a rivedere la playlist pieno di video con argomenti veramente interessanti abbiamo parlato con uno psicologo dei videogiochi delle problematiche dei videogiochi moderni abbiamo parlato con Stefano JRS che si è laureato con una tesi su magic quindi proprio su magic digitale e magic cartaceo che sono temi attuali di contrasto interessante di cui parlare e di cui sapere sempre di più e poi abbiamo avuto grandissimi ospiti più importanti di tutti lo zio Gab che è praticamente lo youtuber più importante a livello italiano per quanto riguarda magic quindi è stato veramente un salto in alto che è stato permesso a questo canale che non mi sarei mai aspettato è tutto grazie alla collaborazione con il cesare sempre grazie al cesare abbiamo avuto ospiti premiato magnificio romagnoli dei ragazzi simpaticissimi e molto molto preparati su l'argomento sia riguardo magic soprattutto competitivo loro sono più competitivi draft e mazzi mazzi d'epoca ma sia soprattutto sulla lore è il loro punto forte ed è sempre un piacere parlare con loro di questi argomenti anche i video in cui li abbiamo ospitati sono stati un successone e poi abbiamo avuto il delmo il re dell'agro che anche lui si è buttato su youtube tantissimi veramente tantissimi ospiti e sono state tutte esperienze magnifiche che mi hanno migliorato notevolmente ripeto prima era un po' più naif nel produrre video nel fare video però con tutte queste esperienze sono migliorato e tutto questo grazie alla collaborazione con el cesar che è praticamente un amico ed è stato bellissimo incontrarlo il luglio al goblin raduno che abbiamo fatto e abbracciarlo è stata un'esperienza veramente fantastica perché praticamente avevamo sempre solo parlato via telefono o tramite discord e non ci eravamo mai incontrati al vivo ma è subito stato un feeling ci siamo subito trovati capiti perché siamo amici sostanzialmente abbiamo caratteri affini lui è meglio di me in moltissime cose però infatti ho imparato un sacco da lui e lo ringrazio l'esperienza di magic show rimarrà sempre nel mio cuore è stato per me è stato un successone però diciamo che non proseguirà più perché ovviamente bisogna continuare a evolversi e le collaborazioni sono state un successo a livello personale però c'è stato hanno perso un po' di interesse a livello di pubblico perché probabilmente non è un problema mio o di Alcesa probabilmente se alla gente che arriva sul mio canale magari mi interessa ascoltare me e la gente che interessa ascoltare Alcesa va sul suo canale diciamo che youtube e il grosso il bello di youtube sostanzialmente rispetto alla televisione è che tu decidi cosa vuoi vedere on demand on demand ed è questo il futuro e presente dell'intrattenimento se io voglio vedere un video di Alcesa vado a vedere Alcesa magari mi sta sulle palle filosofia e mi rompo le palle a vedere un video con Alcesa la filosofia e quindi secondo me le collaborazioni sono state belle importanti mi hanno migliorato ma mi hanno anche fatto capire che sul mio canale devo puntare su me stesso perché se siete qui è perché vi interesso io e volete ascoltare me magari non vi interessa il cesare e viceversa e probabilmente questa la realtà mi rattlista un pochettino però probabilmente dovrei mettermi nei panni dello spettatore perché probabilmente anch'io mi comporto così inconsciamente quando mi guardo un video di qualcuno magari di otobi fa una collaborazione non so con marco merrino e marco merrino mi sta sulle balle non mi interessa vedere i video di otobi marco merrino può essere questa è solo una mia supposizione se la pensate diversamente come sempre vi invito a lasciare un commentino qui sotto a me fa molto piacere dialogare con voi lo sapete benissimo questo è il mio punto di forza e poi un'altra collaborazione che mi ha fatto crescere veramente tanto con l'amico thinking bird con cui abbiamo fatto il dungeon bird podcast stata un'esperienza paradisiaca perché ho avuto la possibilità di raccontare delle mie passioni di esplorare argomenti differenti e di parlare di film videogiochi libri anche lì abbiamo avuto degli ospiti fenomenali come Elia come il primiato magnificio Romagnoli il campione di Thai Box italiano è stato veramente fantastico parlare di tutti questi argomenti così diversi fra di loro e da un certo punto di vista mi ha fatto capire che ho dei limiti dei limiti che probabilmente non si può parlare proprio di tutto bisogna prepararsi un po' di più sugli argomenti di cui si vuole trattare perché sì quando sei con gli amici al pub è una cosa però quando parli sul tubo la gente non vuole sentirti dire cagate vuole sentirti dire cose che hanno un senso e quindi o che tu sai cosa stai dicendo e a volte purtroppo probabilmente mi mancava quella caratteristica lì e era impegnativo probabilmente mantenere un ritmo di quel tipo lì senza una preparazione adeguata e avendo questo canale non potevo permettermi di aumentare dedicare tempo a prepararmi su quegli argomenti però c'è da dire che Thinking Bird lui ha le capacità e il canale continua a esistere e io continuo a supportarlo non escludo in futuro di partecipare ancora al Dungeon Bird Podcast ma però continuerà a esistere anche senza di me cioè io gli ho dato la vita assieme a Thinking Bird questa creazione continua a esistere anche senza di me e non è importante che io non ci sia e anzi la mia mancanza può portare il progetto a evolversi io spero che migliori sempre di più questo è il mio desiderio ma parliamo invece dei futuri progetti perché ragazzi Arena e Magic sono qualcosa che è stato importante per me in questi tre anni e con cui abbiamo abbiamo fatto conoscenza ci siamo conosciuti ma non può essere solo Magic 24 ore verso 24 e quindi ragazzi io stavo pensando di aprire probabilmente un altro canale in cui portare altri videogiochi altri videogiochi che probabilmente magari a voi non piaceranno o magari vi interessano e questo è è un salto nel buio perché probabilmente non è non è facile partire da zero nuovamente mi piacerebbe portare giochi di ruolo mi piacerebbe portare giochi come fallout giochi come dei survival come seven days to die mi piacerebbe fare una serie su seven days to die è veramente un gioco figo e anche anche perché sta per uscire l'alpha 20 che lo migliora notevolmente quindi sarebbe un'ottima occasione per iniziare un playthrough di quel gioco lì e poi sta per uscire diablo 2 remastered quindi mi piacerebbe portare anche una serie su quello e ci sono tante cose che mi piacerebbe fare però bisognerebbe capire se a voi vi interesserebbe questa cosa se alcuni di voi sareste interessati a seguirmi anche in quel frangente perché partire da zero è veramente faticoso e mi servirebbe la vostra mano ma sono sicuro che voi sareste disposti a darmela perché mi avete sempre sempre supportato infatti voglio ringraziarvi veramente tanto cominciare da coloro che si sono abbonati perché si adesso il canale è supportato anche economicamente da voi quindi chi si è abbonato ha fatto qualcosa di veramente eccezionale perché ha permesso al canale di continuare esistere e si stanno accumulando sto mettendo da parte questi soldi che vengono dagli abbonamenti o dalla pubblicità e questi soldi verranno investiti per migliorare il canale ovviamente non è che si diventa milionari con youtube posso smettere di lavorare perché sono pochi i soldini però se uno se li mette da parte poi se magari alla fine della fiera sei riuscito a mettere da parte quei 100 euro dopo diversi mesi quindi puoi usare per non so comprare il green screen mi piacerebbe comprare oppure se ne metti da parte ancora di più e quindi fai passare quasi un anno magari riesci a comparti una scheda grafica buona queste sono tutte cose che vedremo nel tempo e io vi terrò aggiornati e e devo ringraziare anche i ragazzi di discord la famiglia di discord siamo più di 100 siamo tantissimi e pieno di bellissima gente con cui tutti i giorni chiacchiero commentiamo gli spoiler commentiamo i mazzi mi propongono idee è veramente un bel ambiente dark bean simone sam simone m luca finchi bird exodus e ce ne sono tantissimi altri greg e basil ce ne sono veramente tanti di ragazzi e direi che voglio preservare questa famiglia quindi d'ora in poi mi concentrerò su discord non non sarà più possibile entrare su discord nel gruppo se non invitati perché se no rischia di diventare un un circo e invece voglio coltivarvi perché ve lo meritate quindi diciamo che fino a fine settimana sarà aperto poi disabiliterò il link di discord quindi se volete far parte della famiglia vi conviene entrare adesso e successivamente lo potete fare diventando abbonati e creò un come posso dire un livello di abbonamento easy basico per poter entrare nel discord e per inviarvi dei mazzi da tritare in raw o da modificare in pimp e bene sì ho deciso di prendere questa decisione per migliorare l'utenza perché per me siete importanti quindi voglio che ci sia il meglio su discord perché qui adesso vorrei fare un video solo positivo non vorrei levarmi anche dei sassolini dalle scarpe purtroppo è entrata della gente di fra le migliaia di centinaia ma che si stiamo parlando di centinaia di persone che sono entrate nel discord purtroppo sono entrati anche alcuni elementi negativi che ci hanno fatto parlare dal tempo e sinceramente voglio fare una selezione ragazzi voglio solo il meglio voi meritate il meglio e anche io credo di meritarmi il meglio e quindi d'ora in poi sarà così e poi volevo ringraziare ovviamente gli abbonati perché siete sempre di più siete sempre più determinanti i vostri commenti aiutano tantissimo il vostro supporto morale è gigantesco senza questo canale e questa è una cosa che ripeto in continuazione ma è fondamentale dirlo perché se no non si capisce il fatto che senza il vostro sostegno il canale non può esistere e questo che permette al canale di esistere se non avessimo raggiunto questi obiettivi che abbiamo raggiunto sarebbe tutto finito l'anno scorso perché ragazzi insieme abbiamo attraversato la pandemia è stato un periodo veramente terrificante ma il vostro supporto la vostra passione il fatto di che i miei video venissero apprezzati mi ha permesso di andare avanti quindi grazie bene chi devo ringraziare ancora perché ho ringraziato vi ho ringraziato io ho ringraziato al cesa ho ringraziato i vari ospiti del del magic show del dungeon bad podcast gli abbonati alastor alonor89 che ha un canale di magic ragazzi supportiamo i piccoli perché io so cosa vuol dire partire dal fondo e loro alonor è appena partito e quindi date un'occhiata al suo canale perché è un ragazzo niente male e il futuro ecco il futuro di magic mal giocato e il futuro di magic mal giocato è un incognito come ho detto nel video del commento all'annuncio dei nuovi standard molto dipenderà da come si evolverà lo standard anche perché è storico è praticamente ingiocabile e quindi se lo standard non sarà godibile non so se il canale sopravvivrà io cercherò ce la metterò tutta per far sì che succeda e molto dipenderà anche da voi da vostro sostegno perché più mi sostenete più io mi immotivo però se lo standard non sarà all'altezza delle aspettative ci inventeremo qualcosa però sarà una faticaccia ve lo assicuro e poi come ho detto mi piacerebbe portare altri giochi fatemi sapere se la cosa vi intriga vi interessa che tipo di giochi vi interesserebbe vedere anche per cambiare un po' perché rischia uno di stancarsi a giocare sempre solo a magic e collaborazioni invece come ho detto le collaborazioni non ne vedo nel futuro prossimo rimarrà profonda amicizia con Cesar Finkingbird e tutti gli altri ospiti che abbiamo avuto ma direi che questo è il momento che ognuno curi bene il proprio articello questo è quello che vuole youtube l'algoritmo e che volete voi che guardare un video di una persona che vi interessa senza aggiunte esterna che probabilmente a meno che non abbiano dei numeri tanto più grandi come ad esempio lo zio garbe lo zio garbe sì però probabilmente chi ha visto un'intervista con lo zio garbe interessava dello zio garbe e non di mercesa e questo è probabilmente la realtà è un po' amara però è giusto che sia così ognuno ha i propri gusti e youtube l'algoritmo di youtube ce lo fa capire chiaramente che è un dio che non bisogna contraiare perché noi non siamo né dei né giganti però dobbiamo trovare rubare il secreto dell'acciaio al dio algoritmo di youtube per fare modo di fare i numeri e i pigmani bene direi che abbiamo detto tutto e aspettiamo Innistrad Mirnai Hunt la caccia di mezzanotte vediamo come sarà questo set ho un leggero hype perché comunque l'ambientazione mi piace quindi spero che soddisfi il mio palato mi tenga incollato al gioco che vi possa portare dei video sempre migliori e di aumentare di arrivare ai 2000 sempre sempre di più intanto che voi mi darete sostegno e vi interesseranno i miei video io continuerò a farli abbiamo detto tutto vi ringrazio ancora ci vediamo questo video ci rivediamo il prossimo anno vedremo come saremo fra un anno tre anni in magic mal giocato chi lo sa speriamo di arrivarci al prossimo video bye bye Grazie a tutti